Quello ci può stare perché è assolutamente molto fortunato Attenzione perché si sta avvicinando quello che io ho previsto ieri sera Attenzione perché si sta avvicinando quello che io in diretta Barcellona Barcellona Ai 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 Barcellona Prego Vediamo che cosa succede, chi è l'altra? Juventus Per la prima volta si parlerà di finale ai quarti Bene bene bene, allora Barcellona-Juventus, quindi la prima ovviamente a Barcellona E questo cosa vuol dire? Che potrebbe essere positivo per noi Il nostro sorteggio virtuale come abbiamo fatto l'altra volta In cui ci abbiamo azzeccato, anzi ci ha azzeccato Marco Venditti e le sue collaboratrici Come vedete c'è Marco e Chiara che adesso estrarranno dall'urna il sorteggio della semifinale Un po' come essere a Neon, no? Qui corso Reggio Parco, ma Reggio Parco Avenue diciamo, no? Da Neon Vai allora, Marco e Chiara a voi Quella fredda Fa anche rumore Vi ho detto quella fredda Vai Allora la prima squadra delle quattro è l'Atletico Madrid L'Atletico Madrid Eccolo qui Possiamo inquadrare un attimo Il momento è solenne, sembra vero Scusi Infantino Gianni Infantino Senti perché non ti stai zitto un attimo Atletico Madrid, vediamo la squadra avversaria che affronterà l'Atletico Ma che rumore è? C'è un rumore strano in quest'urna Che ci avete messo dentro? La squadra è Derby Real Madrid Tutto combinato, lo sapevo io Ha ragione hai ma è tutto combinato È tutto magna magna È tutto magna magna ragazzi Quindi c'è Juve Monaco C'è Glic contro la Juve Sì, lo dobbiamo fare per ovvie ragioni di correttezza Abbiamo il Monaco Quindi si gioca prima a Monaco Quindi si gioca prima a Monaco E ricordiamo ovviamente si giocherà prima a Madrid per ambe due in casa dell'Atletico Madrid Ok, Monaco, perfetto E ovviamente questa è una cosa che potrebbe favorire in un certo senso Eccola qui, la Juventus Quindi sarà Monaco la prima partita Povero Higuain Eccola qui Monaco, Juventus Quindi partita di ritorno a Torino Ecco, noi abbiamo fatto il nostro sorteggio Vediamo cosa accadrà domani a mezzogiorno a Nioh